Cari amici, approfitto e faccio questo video perché secondo me è il momento di farlo dopo aver letto questa bella notizia. L'All Elite Wrestling in Inghilterra, cari amici, è davvero al top per quanto riguarda gli ascolti. Perché? Perché iniziamo dicendo che ad annunciare questo boom di ascolti è la TV ITV, emittente televisiva britannica Cody Rhodes. I dati sono spaventosi. L'All Elite Dynamite ha registrato 2 milioni e 8 di telespettatori nell'ultima puntata doppiando SmackDown Impact Wrestling e registrando 5 volte i telespettatori di NXT. Cody Rhodes non ha avuto paura di fare nomi. La All Elite, la compagnia leader nel Regno Unito, è un risultato incredibile visto quanto è vivo il wrestling nell'isola britannica. La All Elite ha anche toccato 46 milioni di telespettatori negli episodi precedenti. Un risultato incredibile considerando che va in onda in una pay TV. Inoltre Dynamite ha battuto Impact Wrestling ricordando che entrambi vanno in onda la stessa sera registrando il doppio degli ascolti nonostante Impact andasse in onda in una TV gratuita. La compagnia di Jacksonville ha inoltre battuto anche Raw registrando quasi un milione di telespettatori in più. Cody ha condiviso i risultati ed è molto felice di ciò che la All Elite Wrestling ha raggiunto. Il campione TNT ha detto che non vede l'ora di poter lottare nel Regno Unito ed offrire ai fan britannici ciò che meritano. Insomma, in Inghilterra hanno scelto la compagnia di wrestling leader nel loro paese. Quindi è un grandissimo, un ottimo colpo della All Elite Wrestling. Cari amici, dovevo farlo perché è vero che sono molto appassionato di WWE, però quando c'è un successo anche di un'altra compagnia bisogna dirlo, bisogna raccontarlo. E io l'ho fatto. Buon proseguimento di giornata a voi tutti e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!